No, c'ho Chavez. Chavez, scusa. Sta dal Venezuela, in diretta dal Venezuela. Chavez, sì. Posso parlarci io che parlo spagnolo? Sì, Chavez, ti passo Antonello. Allora, è tornato Antonello Antonelli e quindi sarà anche bello passare... Ha detto che bello non sarò comunque, anzi non... Chavez, ora hai rotti i coglioni. Abbi pazienza, te l'ho detto quattro volte, ce l'ho da presentare... Questo lo capisci anche in italiano. Allora, siamo qua di nuovo assieme, eravamo nel piccolo schermo, ora siamo in uno schermo che volete... Scusa, per un attimo, ma ha rotti i coglioni anche lui. Sì, hai rotti i coglioni Antonello. A me no. Ah, dove lo mandi? Ah, va bene, sì, sì, a Sant'Elena. Guarda, dobbiamo ripresentare... Ciao, ciao, saluta. Oh, finalmente anche dalla... Scusa, ti devo salutare, c'è dei stronzi paurosi. Dicevo, scusami Leonardo, è la prima volta che torniamo nello schermo, che sia piccolo o grande, questa volta lo scelgono i nostri videoascoltatori internettiani, quelli che navigano. Poi avete il click, abbiamo un click, fa così, come vedete non sono cambiate molte cose da... Comunque come direttore mi piace. Ricordiamoci che sono il direttore responsabile di tutta la baracca. Quelli responsabili come me, insomma, diventa un problema averci a che fare. Io penso che già siamo vicini ai due minuti, dobbiamo dire che siamo tornati anche in internet, anche su chiaroetondo.tv per ricreare quello che è stato l'ambiente della trasmissione televisiva e chiaretono. C'è un servizio della stella. Sì, sotto. È per la prima volta che mettiamo sotto la stella. Scusa, è tanto che lo volevi fare. Abbi pazienza. La stella è una donna meravigliosa, una donna molto fortunata, ha un culo così. No, era una battuta. Dai, la stella. Vuoi dargli un colpo di telefono anche alla stella? No, voglio dare un colpo e basta. Andiamo a vedere, perché sotto di noi, se volete, andiamo a vedere, se volete, con un clic sotto di noi la stella, come ho detto prima, è finita. Ok, perfetta domanda.